Rubinetti a secco a Canicattì e in altri comuni agrigentini e nisseni a partire da mercoledì prossimo 13 luglio fino a sabato 16 luglio. Sicilacque, il principale fornitore di acqua all'ingrosso, interromperà l'esercizio dell'acquedotto Fanaco per eseguire alcuni interventi di riparazione urgenti non più differibili lungo l'aduttore principale nelle contrade pesce di mare e fabbrica in territorio di Casteltermini, in contrada Mola Mistretta in territorio di Acquaviva Plateni, in contrada Molinello, in territorio di Campofranco e infine in contrada Pizzillo in località San Giovanni Gemini. Conseguentemente la distribuzione idrica subirà interruzioni in diversi centri della provincia di Agrigento e in particolare da Agrigento, Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa, Licata e Casteltermini. Inoltre ci saranno rilevanti limitazioni nella distribuzione nei comuni di Aragona, Comitini, Favara e Porto Empedocle. Girgenti Acqua invita tutti al contenimento dei consumi idrici fino al superamento della situazione di emergenza idrica e al ripristino della normale distribuzione dell'acqua. Girgenti Acqua garantirà la fornitura idrica per usi pubblici essenziali e assicura il proprio costante impegno in relazione alla tempestiva diffusione di ogni notizia utile che verrà data dal fornitore Sicilacque in ordine ai tempi di ripristino della regolare turnazione dell'erogazione idrica nei comuni interessati.